buongiorno a tutti benvenuti sul canale oggi vorrei porvi un quesito le api sono realmente in pericolo diversi studi rivelano che gli apicoltori sono gli angeli custodi delle api in natura sarebbero in seria difficoltà con gravi conseguenze per l'habitat e per l'uomo pesticidi malattie come la peste americana la peste europea cambiamenti climatici monoculture o parassiti come la varroa destructor mettono a dura prova la vita di una famiglia di una famiglia di api allora un grazie va a tutti gli apicoltori a quelli passati a quelli attuali e a quelli a riuscirò a trasmettere la passione con il mio esempio ci tenevo però a fornirvi anche qualche dato che mi fa capire l'importanza e l'instancabilità che hanno le nostre amiche api con l'arrivo della primavera un solo popolo riuscirà in un giorno a impollinare 225 mila fiori qui una domanda vi verrà sicuramente spontanea ma per fare un chilo di miele quanti fiori devono impollinare la risposta è semplice per un chilo di miele dovranno impollinare all'incirca due milioni e mezzo di fiori dunque il miele è il più squisito frutto di lavoro collettivo che la natura ci possa offrire se anche tu tieni alla sorte delle nostre api e vuoi fare la tua parte puoi adottare a distanza uno dei miei alveari questi cinque alveari dal verde all'arancione passardo passando per il rosa sono a disposizione per l'adozione per i dettagli potete andare a vedere il mio sito www ilmiele.ch in questo modo proteggi la natura proteggi le api e sostieni l'apicoltura a chilometro zero io ho finito vi ringrazio alla prossima arrivederci ciao